Un progetto di educazione alla sicurezza stradale per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, alla luce dei frequenti incidenti sulle strade delle città sia italiane che europee, nonché di Pescara, l'assessore alla mobilità Luigi Albore Mascia ha ritenuto così di organizzare una serie di incontri nelle scuole della città, allo scopo di divulgare una più attenta e idonea cultura della sicurezza in ambiente stradale, in particolare tra i giovani in età scolare e in procinto di diventare i fruitori della strada di domani. Oggi con l'offerta che il comune di Pescara dà a tutta la città per quanto riguarda la mobilità sostenibile ma anche per quello che riguarda poi la compatibilità tra mobilità sostenibile e flusso veicolare normale è necessario intervenire. Dove bisogna intervenire? Bisogna intervenire sui giovani, bisogna intervenire sui giovanissimi, occorre dare loro delle indicazioni, avvicinarli alle regole della strada, del codice della strada e bisogna farlo rivolgendosi a già alle scuole medie. Noi con questo corso di educazione stradale che per la prima volta si tiene a pescare in collaborazione non soltanto con la nostra ottima polizia municipale ma anche con istituzioni come l'Automobile Club d'Italia, come la motorizzazione civile, vogliamo entrare nelle scuole e riusciamo ad entrare nelle scuole con la collaborazione dei docenti, dei dirigenti, dei mobility manager e quindi sensibilizziamo i ragazzi. Un'operazione che coinvolge mille studenti nella nostra città, otto plessi scolastici, sei istituti comprensivi e insomma è un tour de force nel mese di maggio che però produrrà secondo noi ottimi effetti. Importante in questo progetto anche il ruolo dell'Automobile Club di Pescara come spiega ai nostri microfoni il presidente Gian Piero Sartorelli. Un'iniziativa sicuramente molto bella a cui abbiamo aderito con tanta passione come sempre facciamo in questi casi quando si parla di sicurezza stradale l'Automobile Club Pescara c'è sempre come c'è sempre l'Automobile Club d'Italia. Questa è un'iniziativa rivolta a dei ragazzi che forse fra un po' cominceranno ad utilizzare i mezzi di trasporto privati diciamo quindi avranno un po' la possibilità di utilizzare il monopattino poi avranno già andranno in bicicletta e poi cominceranno con la patente la moto quindi dare queste indicazioni già da quest'età secondo noi è fondamentale per creare una vera cultura della mobilità perché poi il problema è sempre quello si pensa che con una contravenzione con una multa si risolve il problema il problema si risolve se si ha una cultura di quello che si sta facendo se si ha rispetto per il prossimo quando si ha la guida di un mezzo ma anche quando si è pedoni.